Ehi, bambina, ti senti bene? Ehi, bambina, ti senti bene? Neirel? Non stai bene, ti prego, ti prego, figliola, lascia che ti aiuti. Neirel, è così che ti ho cresciuta. No, madre, ma devo portare questo peso da sola. Io devo andare alla tomba di Akarat. Ma guardati, tu ti stai uccidendo. Io... io non so quanto a lungo... potrò... Sono qui, scricciolo mio. Mi sei mancata così tanto. Sono molto fiera di te. Ma ora... tu, tesoro, ti devi arrendere. Cosa? No, no, no! Ma certo, sei tu! Razzati morto! Lasciami andare! Lasciarti? No. Tu hai fatto una scelta. E io te l'avevo detto, scricciolo mio, che ci sarebbero state conseguenze. Arrenditi. No! Io controllo la pietra! Tu hai la pietra. Non controlli niente. Forse hai ragione. Forse io ho bisogno di... di aiuto. D'accarat, Cirs, Ciacciam... Mili, timbet, licit. Mili, li l'impianto sotto.